no allora 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 spettro peggio di parede non puoi fare peggio di michele anche difficilmente o di poco io mi allora non so se lo sento e andiamo cairo stiamo ci dovrebbe essere uccidere il lobby e quindi dobbiamo gestire qualche modo ecco a parte buttare il gioco però devo fare una piccola gestione dei cifre anche per fortuna la partita con poco eroni è durata poco per fortuna molto poco molto poco molto poco veramente poco mi che è veramente poco per favore veramente va anche con ciu ciu è durata poco sento una voce nuova eisenberg benvenuto eisenberg buonasera ragazzi poi ci sono due team raga vado a suicidare mia attenzione quello era era noccato per me non so se l'avete notato ma si era uno stava a guardare le finestre l'altro si stava a guardare le finestre eh vabbè lo fanno ora che dobbiamo fare l'acqua non è un architetto e l'altro sono un architetto santo sei lentilissimo incredibile da bianco raga da bianco da bianco non muore ancora lo uso il STG ma ancora lo uso Michele certo che lo uso mi era il STG e fortissimo evitano qualsiasi tipo di dei porti salmi se poi qui non sei figo sei sicuro? sei sicuro che ecco? sono tutti i tryhard sono tutti i tryhard allora al fondo è un tryhard non è bastardo ok sei sicuro? mi devo fidare? cosa? pare dei ide ma anche lui è in tryhard ma tu tutti? tutti no vabbè no al fondo è guarda che poca più forte di te ti ridi scemo ti ridi scemo prendiamo un hub ce ne avevo uno qua però sento dei passettini piccoli no vai che fai Matteo se me lo vuol dire no vai se me dimmi tutto dimmi tutto ma porco zio vai lo prendo un hub che non lo vedo questo sarà nascosto in là Marta ormai non ci caschiamo più Marta ormai non ci caschiamo più è tutto inutile è tutto inutile Marta tutto fake tutto fake Marta tutto fake ormai ci hai scammato varie volte ci hai scammato ci hai lasciato bocca asciutta varie volte Marta ormai infatti questo è l'uomo più veloce dell'acqua ragazzi è Michael Phelps Michael Phelps godo godo guarda come spada per quella pistola ragazzi è uno schizzo sta pistola è una pistola si 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 lo so lo so dico io salto le bombe mancano 19 come facciamo poi asico è un tre ardone per lui quanto facciamo l'ultima tasso a voto sul discord mi ha dato del porco eh vedi ormai Marta basta ormai Marta è finita la nostra amicizia la nostra amicizia con Lucica scuso Marta che non ho capito chiedete scusa Marta chiedete scusa Marta ragazzi chiedo scusa a nessuno Lucica chiedete scusa Marta ah vuoi chiedete scusa a Ulisse? no Anto ma ce l'ha che lo scrivi che io fai più che so fai piccamente chi cazzo la segretaria? che rotta il cazzo che cazzo che cazzo la segretaria non lo puoi schierare fare le cose a lui eh ma mi sono la posta del sogno tu sei il segretario? raga Maria De Filippi Lucica Maria De Lucica come fa ragazzi con te Michael buonasera Michael oddio ma questo stronzo raga questo l'ho truffato con la porta raga la truffa della porta l'inganno questo è l'inganno l'unico inganno era questo poverino da aver ceso Todd sì un attimo cosa fate nella vita così iniziamo a conoscerci raga poi magari ci finanziamo anche pure no la vostra essenza io ragazzi state ben attenti ragazzi ah ma te ma lo sai che ho comprato una geggino per raffreddare le palle? no amica non la voglio sapere davvero? hai comprato una geggino per casarti le palle? raffreddare le palle è un dissipatore per palle? bravissimo che cazzo di... che cazzo di... che cazzo di te mi cazzo? è bellissimo ma te dissipatore per le palle? 20 palle lo chiamo 20 palle? è bellissimo bellissimo non è la palle è carina sì è bello il dissipatore e Marta vi ha detto 17 bombe giusto? no guarda quindi 17 bombe si non era one shotissimo ma era tutto a full era full? vabbè che cazzo di imparagarsi? sono bravi raga mannaggia la madre eccoci perfetto lo so per noi che ne ha presa la pizza per terra? state cazzo Ujigas allora tu vai giocare a Rainbow Six dove devi stare fermo lascia giocare a code a noi per fortuna o comunque non si sa dipendere se sei sul taro ragazzo no Ujigas allora tu testa di cazzo e rispondo audio audio raga ma porco 2 Chris ma vai a giocare a Rainbow Six vai a giocare i professionisti cioè ragazzi dovrei dire 50 anni è più chi di tutti in questo caso sono più grande io vuoi tu spectro di che annozare scusa 2000 ma com'è 2007 hai la voce da 90enne ma com'è possibile 2007 com'è 2007 ma non eri marita posso essere un padre ma com'è 2007 scusa tu Eisenberg 95 ah noi siamo quei tani ma tu dove cazzo sei arrivato non stai guardando l'hollo lacustre scusami fino a ieri come ti sei ritorato a guardarti nel live di Warzone come si sei finito in questa chat questa live grazie di Dio eh ma perché tutti i ragazzi di oggi compensano con la voce grossa vedi ecco fatto uno ho fatto uno mi sono una mano arrivo arrivo enormi enormi bravo dentro 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 sì sì due knock due knock dentro bro sparava dentro Ujigas perché gli ho fatto il movement perché mi ha sparato lì perché gli ho fatto l'inganno della caderea con la siringhella ragazzi chiediamo headquarters quello grosso questo qua davanti ci abbiamo una cifra di gente ancora caccia grosso audio ragazzi no audio audio fatemi fare con loro ce l'abbiamo sopra venite sì se ce l'abbiamo sopra metti a giro metti a giro la gara 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 Dio fiamme l'ultimo 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 fatto eeeh ci siamo dobbiamo restare dobbiamo restare come si deve venire dietro al muro Matteo perché l'ho visto mi sparava letteralmente ma non me l'ho visto mi chiesto a uscire così poi i dati i dati a spunto per continuare a fare questi quiz del merda Chris puoi stare zitto che devo farci carriere dai ragazzi per favore soldi soldi no ma non abbiamo il resto non abbiamo il resto ci tenete nell'altra casa dammi i soldi dammi i soldi niente con calma hai una smoke vieni 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 non c'è andare non c'è 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 crackato 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 oddio adesso il volo adesso il volo ci vado va le armi 3v3v3 ci vediamo sul top raga sul top ce l'abbiamo top raga top top è sotto top è sotto venite venite ultiamo ultiamo raga venite followate raga followate l'altri su top però non c'è andiamo non c'è andiamo 12 3v1 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 fatti apri ultimi apri ultimi è ciaccianna si bravi raga raga vedi vedi boku impara giocare dai ragazzi vedi ma che andiamo a impara a giocare dai ragazzi impara a giocare dai ragazzi boku impara 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 boku hai visto Con le call Che tu non ascolti mai le call Guarda